Un anticiclone è presente sull'Europa centro-occidentale, mentre una massa d'aria fredda e secca scende dalla Germania verso i Balcani e l'Adriatico. Quindi sulla nostra regione affluiscono forti correnti da nord. Per sabato prevediamo cielo prevalentemente sereno su pianura e costa, poco nuvoloso in montagna per qualche velatura o qualche cumulo. Durante la notte sarà ancora possibile un po' di vento sostenuto da nord in montagna e domani mattina sulla costa potrebbe esserci ancora un po' di bora che però cesserà nel pomeriggio. Temperature minime in pianura di poco sopra lo zero, minime sulla costa attorno ai 6-7 gradi, massime attorno ai 15-16 gradi su pianura e costa. Per domenica prevediamo cielo inizialmente poco nuvoloso per delle velature che potrebbero interessare soprattutto la parte occidentale della nostra regione. In giornata cielo anche prevalentemente sereno. Temperature simili a quelle di sabato, forse le temperature massime potrebbero attestarsi attorno ai 14-15 gradi su pianura e costa. Anche per lunedì e per martedì è bel tempo con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Al mattino sulla costa soffrirà sempre un po' di burino che poi cesserà nel pomeriggio. Temperature attorno ai 2-3 gradi in pianura, attorno ai 7-8 gradi sulla costa, le minime, e massime attorno ai 14-15 gradi su pianura e costa. È tutto, buon fine settimana dall'Osmer.